eccoci qui dove c'eravamo lasciati all'episodio precedente al confine fra marche e abruzzo ci aspetta una lunghissima ciclabile dall'odore di salsedine che ci lascia bocca aperta dallo stupore e con la voglia di tornare presto a visitare questa regione questo è l'abruzzo mare e montagna e ciclabile lungo la costa sorprendente no? allora noi siamo appena partite 6 chilometri e 2 per la nostra notturna che ci porterà alle ore 6 a vedere l'alba a punta d'erci ma siamo e se non la guarderemo da un'altra parte ci sono alcuni modelli ci sono alcuni modelli ci sono alcuni modelli ci sono alcuni momenti in cui vorrei essere capace di rinunciare mi succede molto spesso con la cioccolata difficilmente riesco a non mangiarmi quasi tutta la stecca se la comincio è più forte di me mi sento in dovere di finirla mi accade anche in bicicletta quando vedo un sentiero sterrato la mia testa fa click e trovo inaccettabile percorrere l'asfalto la maggior parte dei casi andrà benissimo ma quella piccola percentuale che va male mi fa sudare mentre spingo la bici e penso ai peccati che ho commesso tra cui tutte le stecche di cioccolate che ho mangiato e soprattutto mi suggerisce che ogni tanto anziché il cuore è meglio usare la testa che giornatina sì o no? fossa cesia siamo a fossa cesia che bellezza ecco il profumo di rosticini noi stiamo andando in cerca di rosticini che tanto mi aspetto a te mi aspetto a te oggi cominciamo la nostra terza settimana è lunedì e a me il lunedì mi piace è lunedì è lunedì è lunedì è lunedì è lunedì questo ci va è lunedì è lunedì resta è lunedì quando si va in bicicletta la cosa bella è che puoi mangiare quello che vuoi non ingressi mai fai troppo sforzo e di qua c'è il fiatone bellissimo bellissimo quella è Termoli e siamo in Molise ebbene sì in Molise esiste esistono anche le città in Molise anche dei giovani che chiacchiano e giocano a pallavolo però non c'è la ciclabile lungo l'Adriatica non hanno dovuto fare la statale grazie mille allora abbiamo appena lasciato la statale di Molise un bruttissimo viaggiare di statale però non c'era molta possibilità facendo la costa ed era anche molto sporco la prima regione che abbiamo trovato veramente sporca per la strada anche ieri sera che volevamo andare a campeggiare in spiaggia era tutto molto sporco vabbè ma abbiamo il sentore di essere arrivati in Puglia quindi in questo momento ci siamo? siamo arrivati in Puglia anche da un po' anche da un po' wow Puglia ta 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 direi molto bene visto che era la nostra prima meta diciamo abbiamo il vento alle spalle infatti in statale tenavamo i 33 all'ora quello che siamo un po' sudate sto bello giusto all'entrata settentrionale della Puglia esiste un lembo di costa lungo 15 km coperto da dune di sabbia e bassi arbusti la cosiddetta terra di nessuno ma non perché non ci abiti nessuno anzi abbiamo trovato una mucca due cervi un serpente un ramarro marrone e ben tre leoni non lo sapevate? beh allora rimanete connessi che vi racconto tutto nel prossimo episodio ciao 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 ciao